Su questo canale vi ho spesso parlato di portateli configurabili, ovvero i Clevo, portateli che poi vengono assemblati da aziende esterne. Io ho avuto a che fare con Ryontech e PC Specialist e in questo video vi mostrerò come risparmiare fino a 150 euro in fase di acquisto. Per alcuni potrà sembrare una procedura scontata perché è veramente molto semplice, però vi assicuro che tantissimi utenti che mi hanno scritto privatamente su Instagram e a proposito seguitemi anche lì, ecco non sapevano assolutamente nulla di questa opzione. Ho aperto sia il sito di PC Specialist che quello di Ryontech ma chiaramente questa procedura vale per tutti quei servizi che si occupano di assemblare queste macchine. Allora iniziamo da PC Specialist, in questo caso configurerò un notebook veramente il primo che mi capita, andiamo qui nella sezione gaming, seleziono ad esempio questo Optimus e come potete vedere potrete scegliere il processore, la RAM, la GPU, ma a noi l'aspetto hardware non ci interessa ma bensì quello software. In che senso? Ovvero che quando gli utenti arrivano in fondo snoppano il sistema operativo. In che senso Piz? Io lavoro su Windows, mi lascio Windows ed è proprio lì l'errore, perché? Perché guardate il prezzo qual è adesso con l'iva inclusa 948 se noi andiamo a togliere il sistema operativo guardate 841 euro questo perché vi viene applicato il prezzo di listino che tra l'altro nella versione pro corrisponde a 149 euro. Saprete meglio di me che in rete ci sono chi di Windows 10 sia Pro che Home che costano all'incirca 20-30 euro. Tra l'altro se non siete degli utenti smanettoni, non sapete installare il sistema operativo, ecco non è un problema perché lui vi arriva con Windows in prova quindi vi basta mettere il seriale e si attiva. La stessa cosa avviene anche con Ryontech ma devo dire che l'azienda italiana è stata un po' più onesta perché? Perché se andiamo sul sistema operativo vedete che di default non ce l'abbiamo e se andiamo a selezionarlo appare il singolo prezzo. Come al solito ragazzi vi invito ad iscrivervi al canale stiamo piano piano crescendo e noi ci vediamo al prossimo video.